Sono stati intensi e partecipati. Come sono stati intensi e partecipati a questo punto? Oggi parleremo di un genere posto del libro fantasy, di autore su questo. Ah no, penso di sì. Un romanzo che ho trovato tutto. Oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi, che ci parlare di questa bellissima opera. Ho portato alcune recensioni. Vedo che scrive benissimo, ha un vocabolario bello corposo, ma cito di termini importanti, sinceramente. Io ho iniziato a leggere il libro in un ultimo momento di intempo, di far capire chi porta ad essere attento, insomma, con le sue cantite della seconda età. Oggi l'ho fatto con il libro con Paola Lido e Pasquale Brassi, che sono soci del pubblico, amici nostri da Tempo, insieme con il maestro Katia. No! Katia? Tutta l'idea? Tutto 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 l'idea? Grazie a tutti.